Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle TSL modello 305-325 ROC, modello che TSL ha fatto appositamente per il mercato italiano, un modello che, vi preannuncio già, è completamente riparabile, ma che ha anche un bel difetto di cui adesso parliamo all'interno della recensione completa. Come al solito iniziamo dal peso di queste TSL, modello 325 pesa 950 grammi l'una, quindi sfioriamo i 2 kg nel complesso. È un peso che è un pelino alto, nel senso pesa un qualche centinaio di grammi in più rispetto a ciaspole sia di TSL sia della concorrenza, però diciamo che alla fine questi centinaio di grammi in più non si fanno tanto sentire. Inizio, come al solito, a parlarvi della forma di queste ciaspole. Come potete vedere, queste ciaspole hanno una concatura nella parte mediana. Questo ci aiuta tanto nella camminata, infatti queste ciaspole anche a lungo andare non ci faranno tanto stancare il piede, non dovremo tenere le gambe troppo divaricate per riuscire a utilizzarle. Sempre legato alla forma, arriviamo anche alla galleggiabilità. La galleggiabilità è abbastanza nella norma, non sono delle ciaspole con cui galleggeremo tantissimo, ma nemmeno con le quali affonderemo parecchio. Quindi sono nella norma, come tante altre ciaspole, sia di TSL e del stesso prezzo, sia di competitor. Vi rivedo un attimo a parlare dei materiali. Questa ciaspola è fatta in plastica composita, tutta la parte gialla esterna in plastica, e come sappiamo l'usura della plastica è abbastanza alta rispetto ad altri modelli, questo proprio per la natura del materiale, però in sé alla fine questa ciaspola ha qualche graffio, giusto qualche pezzettino sulla punta che magari presenta qualche roccia, ma per il resto questa ciaspola ha una durabilità decisamente accettabile e potrete andare avanti a utilizzarla sicuramente per diversi anni. Passiamo ora a parlare della ramponatura inferiore, partendo da quella anteriore sotto la punta del nostro piede. Qua troviamo una ramponatura decisamente semplice, formata da due spuntoni. Sì, diciamo che lavora bene, non ha grossi problemi. Se proprio proprio avrei preferito magari una ramponatura anteriore, più simile alle sorelle Elevation, faccio un esempio. Però vabbè, diciamo che ci sta, dai, non ci sta. Continuando arriviamo a parlare di tutta la ramponatura centrale. Come potete vedere troviamo due file, due lamine, che corrono da punta a tacco. Queste sono decisamente interessanti, innanzitutto perché non si trovano facilmente su ciaspole di questo prezzo, ma normalmente su ciaspole molto più costose. E questa laminatura, insieme a sei spuntoni singoli, ci dà modo di avere un ottimo grip su neve ghiacciata, su neve anche abbastanza fresca. L'unica cosa, e qui arriviamo al difetto numero uno che ho trovato di questa ciaspola, è che questo tipo di ramponatura non riesce a pulirsi dalla neve nel momento in cui andremo a fare una ciaspolata su neve bagnata. Io l'ho notato, diverse volte mi si è formato uno zoccolo di neve, quindi l'unico caso in cui avremo problemi con questa ciaspola è proprio in caso di neve bagnata. Per il resto la ramponatura funziona davvero bene. Ve le consiglio molto anche se doveste fare delle ciaspolate in notturna, dove magari la neve è un pochino più ghiacciatina. Anche per i traversi, queste vanno decisamente bene, perché vista questo tipo di ramponatura andrete via molto sicuri, senza problemi di scivolamenti. Quindi ramponatura inferiore che a mio parere la promuoviamo diciamo al 90%, proprio nel caso di neve bagnata potreste avere qualche inconveniente. Ma giriamo la ciaspola e arriviamo a parlare della parte superiore. Io inizierei dal sistema di regolazione della lunghezza del piede. Allora, questo è molto basic, basterà semplicemente alzare la parte posteriore dove va il tallone e muoverla sul cursore in avanti e indietro. Diciamo che è molto basic, davvero molto basic. Mi è capitato che magari si muovesse un pochino, non rispettasse l'idocentimetri sul quale l'andavo a mettere. Quindi fosse stata anche qua fatta come quella sul modello Elevation, sulle sole Elevation, sarebbe stato decisamente meglio. Sempre parlando poi di tutta la parte superiore, vi riporto che sotto abbiamo una parte in gomma che ci evita di sentire il tac 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 delle ciaspole quando andiamo a sbattere sul frame inferiore. E questo sinceramente è sempre un plus che mi piace tanto di TSL perché sono ciaspole che fanno poco rumore quando andremo a camminarci. Arrivando però a parlare del succo di queste ciaspole, parliamo della chiusura che va a posizionarsi sul nostro collo del piede. Questa chiusura è decisamente semplice, fatta a cricchetto, con un singolo cricchetto posto nella parte esterna della ciaspola. Che dire, semplice però funziona bene, il cricchetto non si inceppa, anche con neve magari che si infila dentro e si ghiaccia un po', riusciamo comunque a utilizzarlo, quindi questo tipo di allacciatura di TSL mi ha sempre convinto. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, anche questa è decisamente basic, nel senso che è composta da un semplice cordino da andare a tirare e si va a stringere, poi abbiamo la possibilità di incastrare dentro il cordino, ma comunque è molto semplice e questa sua semplicità fa modo che funzioni senza intoppi, funzioni abbastanza bene. Infine arriviamo a parlare del tallone, ovvero questa ciaspola ha sia il blocco del tallone, per evitare che questa vada a bascolare nel momento in cui andiamo a trasportarla, ed ha anche un alzatacco, anche lui molto semplice, un pochino durino da attivare, non si riusciamo a utilizzarlo con il bastoncino, però in generale, al di là dell'essere un pochino dura, funziona abbastanza bene. Ma in sé, come performano queste ciaspole? Allora, mi ci sono trovato veramente bene, io sono una persona che pesa 70 kg, come dicevo, ho preso il modello 325, la galleggiabilità, come vi anticipavo, è decisamente ottima, alla lunga non è una ciaspola che stanca, molto buona anche la curvatura della parte anteriore, nel momento in cui andremo a sollevare il piede per fare il passo, quindi diciamo che è una ciaspola alla fine completa, che viene venduta a un prezzo non tanto alto. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste TSL, visto che ve ne ho parlato durante tutta la recensione, vi costruito quanto costano, online si trova da 140-150 euro. Ve le consiglio, sì. In primis, perché comunque, ok, è una spesa alta, 140-150 euro, però è una ciaspola che possiamo riparare in tutte le sue parti, quindi anche alla lunga, se dovessero rompersi, basta spendere qualche euro in più e poter cambiare il pezzo. È una cosa molto positiva dal punto di vista sia ambientale che anche del nostro portafoglio. Poi comunque ve le consiglio, proprio per il tipo di ciaspola, avere una ramponatura inferiore fatta in questo modo non è consuetudine su una ciaspola, diciamo, intermedia, su una ciaspola che però strizza abbastanza l'occhio anche a un escursionista un pochino più esperto, un escursionista che vuole una ciaspola con il quale fare già anche qualcosa di un pochino più complicato. Perciò, ragazzi, io nella speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!